Il Salone del Risparmio è una tappa centrale per l'industria del risparmio gestito e per il mondo della consulenza finanziaria, soprattutto perché ha dimostrato di saper crescere ed evolversi nel tempo come evento, così come sono cresciute le esigenze del mondo del risparmio gestito e soprattutto i bisogni dei clienti e dei risparmiatori finali. Questa evoluzione in realtà è anche legata un po' al contesto macro che comporta un'elevata complessità dei mercati finanziari e soprattutto anche la velocità con cui i cambiamenti avvengono sui mercati finanziari. La situazione macro è sicuramente molto complicata perché si ha un po' la sensazione che con l'ultima riunione della BCS si è un po' arrivati alla frontiera estrema delle politiche monetarie e questo ha fatto evidenziare ancora di più lo scostamento che c'è tra le politiche monetarie e le politiche fiscali e sempre più l'esigenza che ci sia un cambio di passo sul fronte delle riforme strutturali per poter rendere davvero efficaci tutti gli sforzi che a livello della Banca Centrale si stanno facendo. Tuttavia in questo scenario l'incertezza e la volatilità regna sovrana e questi primi mesi dell'anno hanno mostrato come ciò possa far male agli investitori con il meno 20 registrato in un mese, nel primo mese dell'anno, con un recupero brusco che si è verificato subito dopo e con un risparmiatore finale che si è trovato a gestire situazioni così estreme. In tutto questo è chiaro che il ruolo di una società di gestione del risparmio deve essere tale per cui deve rappresentare un momento di sintesi tra il mondo dei mercati finanziari e gli investitori finali. In questa situazione secondo noi è importante riuscire a semplificare per il risparmiatore. Infatti da un lato la complessità dei mercati richiede delle risposte e delle soluzioni di investimento molto sofisticate perché la complessità è tale per cui gli strumenti tradizionali a cui spesso gli investitori sono più affezionati o sono stati più affezionati in passato non è necessariamente la risposta giusta. Questo però vuol dire che la sfida per noi è molto importante ed è molto più difficile perché vuol dire semplificare per evitare che il risparmiatore e l'investitore si trovi di fronte a cose che non capisce o che non sa come utilizzare e come all'interno dei propri obiettivi di pianificazione finanziaria. In questo ambito noi pensiamo che delle soluzioni di tecniche di investimento alternative più sofisticate che permettano quindi di sfruttare la volatilità come fattore positivo e quindi dall'altro lato il controllo della volatilità nel tempo siano elementi cruciali purché siano declinati in una maniera semplice e chiara e facilmente comprensibile per il risparmiatore.